Parliamo anche con Vasco Algisi, giornalista bergamasco, parliamo di Lega Pro e soprattutto di Albino Leffe. Come vedi la prossima stagione per la squadra bergamasca? Sarà una stagione più difficile dell'anno scorso perché è un giro nelle 20 squadre e è una squadra ringiovanita, un bravo allenatore per una squadra ringiovanita, ha perso ancora degli elementi validi e quindi è una squadra sul quale bisogna scommettere. Una squadra giovane, io penso che l'obiettivo prioritario sia restare in categoria, poi se arriva così più, tanto meglio. Si è scelto di tornare a Pala come tecnico, un giudizio su questa scelta del Presidente? Pala è un allenatore che si sa fare con i giovani, l'ho già dimostrato due anni fa, la squadra è ancora più giovane, ci sono tanti elementi che arrivano dalla Berretti e quindi è un allenatore che dovrà lavorare molto con questa squadra e farla crescere. Allargando un po' il discorso anche alle altre squadre, chi, il mercato è ancora aperto, ancora sarà molto lungo, ma chi vedi messo meglio rispetto alle altre? Sicuramente Monza e Pavia hanno fatto delle buone squadre, la Cremonese si è un po' rigiovanita e poi le altre più o meno si stanno lavorando, però credo che Monza e Pavia abbiano la struttura per cercare di siedire categorie.